Buonasera, manicomio di Arcavus. Oggi assisteremo tutti alla morte di... ...ehi Batman, facci piano. Fallo per me! ...e cosa più forte? Farmi tutto il gol! Ha 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 ha... ...dissacro la faccia! ...e... ...e... ... ... Prendi noto, devi ordinare altri scagnozzi di buona qualità questa volta. Non fatti beccare! Non fatti beccare, non fatti beccare! Non fatti beccare, idiota! Abbiamo ragazzi, è solo un uomo! Uno vestito da pazzo e armato fino ai destri! Prendetelo! Non fatti beccare! Ancora! Servono più armi da fuoco, da tutte fette! Ancora! Ancora! Non essere troppo sicuro di te, Batman! La prossima volta non si spazzo! Ancora! 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 Ancora!